a benvenuti tutti alla 41esima fiera di san matteo lascio la parola alla mia amica sada weser grazie un applauso è stato veramente carino bene la va dato ufficialmente il via alla 41esima fiera san matteo nel comune di leguiglia a 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